allora questa lettera è falsa allora questa è meno risultato no è meno posso entrare nel mezzo questa lettera io questa lettera la conosco perché l'avete data voi è una misogna come mai lo sa del ministero dell'interno per ignorare tutte quelle pili qui in Italia è un problema però è quello un problema però non è un problema nostro è un problema è un problema è un problema è un problema sulla nostra cittadina quando abbiamo affrontato il problema c'è